Ciao, eccoci con un nuovo video e in particolare eccoci con la lezione 29 del minicorso sui sistemi dinamici. Se vedi che da adesso in poi non mi cambierò la maglietta è che ho deciso di registrare in blocco tutti i video, insomma, quindi non è che non mi cambi in generale, però in un pomeriggio ho deciso di finire il corso, insomma, così da avere tutti i video disponibili, insomma. Quindi andiamo con la lezione dedicata al teorema di Hartman-Grobman e in particolare quindi la coniugazione di flussi. Questo teorema ci servirà per formalizzare quello che abbiamo già introdotto nella precedente lezione parlando di linearizzazione dei sistemi dinamici intorno ad un equilibrio. Però avremo tutti i presupposti, insomma, per definire questa linearizzazione in termini più rigorosi e così potremo anche tornare su questo esempio della linearizzazione alla fine della lezione. Benissimo, quindi questo è un teorema molto importante perché ci permette di capire cosa succede intorno a un equilibrio e quando siamo abbastanza vicini a questo equilibrio. In particolare vedremo certe situazioni in cui il sistema linearizzato, che è ben più semplice da studiare del sistema originale, ha sostanzialmente delle proprietà qualitativamente simili rispetto a quello non lineare e vedremo cosa intendiamo per simili. Ok, quindi vediamo il teorema e poi andiamo con degli esempi. Quindi sia x un campo vettoriale definito su un aperto U di Rn, supponiamo come al solito x regolare abbastanza, ok, quantomeno per avere esistenza e unicità delle soluzioni. E poi supponiamo che P sia un suo equilibrio, ovvero che x di P sia uguale a zero. Benissimo, vediamo adesso in quale circostanze intorno a questo punto possiamo descrivere la dinamica tramite lo studio del sistema linearizzato. Quindi supponiamo quindi che questo equilibrio P sia iperbolico. L'abbiamo già vista in qualche altra circostanza, la nozione di equilibrio iperbolico, ma lo richiamiamo insomma, ovvero questo equilibrio è tale che la matrice jacobiana di questa funzione vettoriale, che è il nostro campo vettoriale, valutata nel punto P, non deve avere autovalori che hanno parte reale zero. Se questo è ciò che accade, allora l'equilibrio è detto iperbolico. Benissimo. Allora, se tutto ciò è verificato, allora esiste un intorno B ε di P. Qua non abbiamo misure qualitative e quantitative di quanto questo intorno sia grande, ma sappiamo che tale intorno esiste se abbastanza piccolo, quindi in esso varranno certe proprietà. Quindi esiste questo intorno B ε di P e un omeomorfismo H che va da questo intorno B ε di P in Rn, tale che cos'è che fa questo omeomorfismo? Coniuga il flusso del campo linearizzato a quello non lineare di partenza appunto in questo intorno. Cosa vuol dire? Che questo omeomorfismo H è tale che H di P è uguale a zero e X è topologicamente coniugato, o comunque coniugato da H al flusso della sua linearizzazione. La linearizzazione è questo sistema, questo campo vettoriale definito dalla matrice jacobiana del campo X valutata nel punto P, che moltiplica poi da sinistra il vettore U che sostanzialmente è il vettore degli stati della dinamica, quindi è il cambio di coordinate che otteniamo applicando H a X, la variabile da cui siamo partiti. Questo coniugare topologicamente vuol dire che i due sistemi si comportano qualitativamente nello stesso modo in questo intorno B ε di P. Quindi questo è esattamente quello che intendevo negli scorsi video quando ho parlato di linearizzazione, in cui ho detto che localmente i due sistemi si comportano nello stesso modo in certe circostanze. Allora, le circostanze sono quando l'equilibrio è iperbolico e qualitativamente in modo simile vuol dire che sono topologicamente coniugati, ok? Quindi ho cercato di presentare un esempio, se ne potrebbero portare parecchi chiaramente, legato a un qualcosa che ho già fatto sul canale, in particolare il sistema di lotca Volterra. Questo è un sistema che ho trattato molto tempo fa, il video l'ho fatto alla lavagna, avevo ancora l'apparecchio e facevo fatica a parlare, però mi è stato chiesto in un commento come faccio a linearizzare il sistema intorno all'equilibrio e quindi ho cercato di presentare in maniera esplicita, insomma, questa procedura applicata all'esempio. Quindi abbiamo il nostro sistema di lotca Volterra che è definito da questa coppia di equazioni differenziali, quindi un sistema planare, non è lineare e è della forma a meno by che moltiplica x uguale a x la derivata nel tempo di x e la derivata nel tempo di y è invece cx meno d che moltiplica y, dove a, b, c e d sono dei parametri maggiori di zero che vengono poi tarati, insomma, in base a che dinamica vogliamo modellizzare. Quindi per ora sono solo dei numeri maggiori di zero e tali rimarranno anche nel nostro esempio. Quindi è abbastanza facile verificare che gli zeri di questo campo vettoriale e quindi gli equilibri della dinamica sono due e questi sono due potenzialmente coincidenti qualora d e a sono uguali a zero chiaramente come vedremo, però se li assumiamo a, b, c e d tutti positivi sono due distinti. Quindi uno è l'origine x0, y0 uguale a 00, questo qui, e il secondo invece è x0 segnato, y0 segnato, uno è d fratto c e l'altro a fratto b, perché o si annulla questa parte qua della dinamica o si annulla questa. Quindi abbiamo due soli equilibri, ok? Cosa vuol dire capire il comportamento della dinamica intorno ad essi? Beh, vuol dire calcolare la linearizzazione del sistema, valutarla in quei punti e studiare quindi quel sistema lineare appena ottenuto. Quindi linearizziamo intorno ad entrambi gli equilibri. Per farlo quello che si fa solitamente è prima calcolare la matrice jacobiana del campo vettoriale nelle generiche variabili x e y, poi valutarle nei due equilibri che abbiamo e quindi studiare le due dinamiche. Quindi il campo vettoriale è di questa forma, è non lineare però è quadratico, quindi è abbastanza semplice da derivare. Ho scritto esplicitamente i prodotti così da agevolarci nel calcolo delle derivate. Calcoliamo quindi la matrice jacobiana che è questa qui. La derivata rispetto ad x di questa prima componente è a-by, rispetto ad y è-bx. Similmente abbiamo cy e cx-d derivando la seconda rispetto ad x e y. Questa è la matrice jacobiana che chiamo j di x y. Ora se valutiamo essa nei due equilibri, nell'origine, e in d fratto c a fratto b, otteniamo le due linearizzazioni intorno ai due equilibri, che se vediamo appunto che i due equilibri sono iperbolici, ci permetteranno di capire localmente come si comporta il sistema. Vedremo che non tutti e due lo sono. Nel caso della linearizzazione intorno all'origine abbiamo che la matrice prende la forma a-0-d. Questa è una matrice che chiaramente ha due autovalori, possibilmente coincidenti, nel caso a e-d coincidano, però sono entrambi reali e sono di segno opposto, visto che abbiamo assunto a e d entrambi strettamente positivi. Quindi intanto sappiamo che l'equilibrio zero-zero è iperbolico, perché a e d sono entrambi strettamente positivi, quindi nessuno dei due autovalori a parte reale nulla. E poi sappiamo che quindi per il teorema di Hartman-Grobman localmente il comportamento è qualitativamente lo stesso e per il sistema lineare il comportamento di questo sistema l'abbiamo già visto nelle prime lezioni e essendo che abbiamo due autovalori di segno opposto, entrambi reali, la dinamica è allora instabile intorno a quell'equilibrio e in particolare abbiamo un punto di sella, quindi abbiamo delle parti attratte dal nostro equilibrio, delle parti respinte. Quindi anche per il sistema non lineare, grazie al teorema appena visto, il sistema è instabile intorno all'origine. Se linearizziamo invece intorno a d fratto c a fratto b, vediamo che la jacobiana, quindi la matrice che definisce la dinamica linearizzata, è di questa forma qui. Questa è una matrice abbastanza semplice da studiare, insomma, però la cosa importante è che è a traccia zero e il determinante è a per d, che è maggiore di zero. Questo ci dice che sostanzialmente abbiamo due autovalori puramente immaginari e coniugati. Quindi essendo essi puramente immaginari abbiamo che necessariamente il nostro equilibrio non può essere iperbolico e quindi la linearizzazione non ci dice niente di come il sistema si comporti intorno all'equilibrio. Quindi ho deciso di portare anche questo esempio per mostrare che non sempre la linearizzazione è utile da questo punto di vista. E soprattutto vedremo più avanti delle tecniche che ci permettono di studiare la dinamica intorno a questo tipo di equilibri. E quindi, appunto, come ho scritto in verde, il teorema di Herman Grobman non può dirci nulla, visto che l'equilibrio non è iperbolico, e vedremo più avanti come poter trattare questa tipologia di equilibrio. Vedremo che è un equilibrio di tipo centro e quindi è un equilibrio stabile ma non asintoticamente, ovvero se noi partiamo abbastanza vicini all'equilibrio rimarremo abbastanza vicini ma non saremo mai attratti da esso. Benissimo, quindi con ciò direi che possiamo chiudere questo video. Abbiamo visto abbastanza cose legate al teorema di Herman Grobman, chiaramente si potrebbe dire molto di più e fare molti altri esempi. Però con ciò direi che possiamo chiudere il video e ci vediamo con la lezione 30 e ti anticipo che ce ne saranno 39 di lezioni e probabilmente le vedi già elencate nella playlist. Con ciò appunto ti saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!